Dall'altra parte però mi fa piacere anche stare qui, perché in realtà mi sa molto di déjà vu, visto che... È un déjà vu vero e proprio, anche perché Pier Davide, dovete sapere, che prima di andare ad Amici suonava con i Terrarossi, quindi era un Terrarossi, anche lui, Terrarossi, quindi anche lui, è merito anche suo il riconoscimento che, diciamo, la provincia ci darà, perché per tre anni, Pier Davide, per noi è sempre Davide, ha suonato con i Terrarossi. Non lo so, vogliamo fare qualcosa insieme? Adotta? Dai, facciamo una pizzica... Allora, beh, visto che dicevamo, no, facciamo... Proponiamo i prodotti del territorio, la musica del territorio, facciamo una bella pizzica tarantina, e poi facciamo anche le belle per lui. Però adesso facciamo una pizzica tarantina, la cantina per voi, Pier Davide Caroni. Bene? Totalmente fuori programma, le parole sono ancora... Sì, ma voi dovete sempre abbassare le mani, però... A tutta faccia che dà Maria a me... A tutta faccia che dà Maria a me... S jack, assi, a platini sia bene,å, scritto da Maria a me... Guru Gnolla, la nunμά... qualche potove, lato mijshunio, ma... Ditt'iero è un paese? Sì, che dà dia vorrei, lato mijshunio, ma... Te vieni come voi, il tuo momento voi a me... Che il tuo momento voi, ti non tokishat... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.